ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere quello che è uscito ieri a roma allora abbiamo preso cose molto belle positive allora vi faccio subito vedere gli ambi e poi vi faccio vedere anche qualcosa di più allora roma abbiamo detto la precedente del 13 per quella del 15 ieri allora digitiamo subito la precedente del mio programma 12 ambi secchi di john 50 20 81 64 e 65 invio allora ieri sono usciti due ambi secchi credo dal mio programma allora vediamo subito l'undici qui e il 9 quindi ambo secco 11 9 quel nuovo uscito anche qui il 39 purtroppo niente 11 21 39 21 e 11 20 il 20 niente 31 12 12 eccolo qui l'altro 11 2 11 2 prima 11 9 11 2 da qui ho capito che nell'altro mio programma che adesso vi farò vedere c'è anche qualcosa di più una cosa veramente positiva bello beato chi l'ha giocato un terno e su roma secco adesso vi faccio vedere allora qui intanto sono due ambi secchi 11 9 e 11 2 11 12 9 roma quindi sono veramente contento e a tre ambi 9 e 2 anche mi dimenticavo 9 e 23 ambi secchi ero convinto di due senso di 3 ambi secchi 11 9 11 2 e 9 2 roma 9 2 avete visti da qui ho capito che c'era subito il terno dall'altra parte e anche qui comunque il terno in quartina questa farlo chiudiamo 11 9 e 2 terno in quartina qui sono 9 2 11 9 2 terno in quartina poi qui la cosa bella che nell'altro mio programma i terni di john veramente spettacolare beato chi ha giocato digitiamo adesso tanto vi faccio vedere poi le caselle che cambiano guardate le caselle verdi che poi pensate che faccio i mastruzzi 50 20 guardate le caselle veri come si muovono 81 64 e 65 la precedente di roma per quello di ieri guardate che bello 11 9 e 2 terno secco a roma terno secco 11 9 2 qui l'ho capito dall'altro programma perché sono simili calcoli non sono uguali ma quasi quasi con l'aggiunta di qualcosa nell'altro mio programma terni secchi di john e e anche comunque nelle quaterne perché adesso vi faccio vedere nelle quaterne cito l'altro terno in quartina oltre quello le quaterne che ho dato nel programma 12 ambi secchi quindi che dire sono veramente contento 11 9 2 roma 11 9 2 beato chi l'ha giocato lo so non posso sapere la ruota dove escono però questo è un buon risultato sono veramente contento adesso vi faccio vedere ancora l'altro mio programma le quaterne di john che sono simili comunque 50 20 81 guardate le caselle verdi come si muovono perché sennò poi mi rompete le palle che ha photoshop il mastruzzo invece tutto vero beato chi l'ha giocato allora 11 9 2 anche qui peccato il 32 se non era una quaterna secca lato 72 peccato però non ci possiamo lamentare 11 9 2 poi anche qui un 12 2 vabbè tutti gli ambi dentro chiaramente fanno fanno veramente piacere beato chi l'ha giocato ripeto però io purtroppo no ma mi ricorda tanto la quaterna che avevo perso su palermo un po di tempo fa che qualcuno mi ha messo anche gli sdai che non so chi è quel idiota e quindi avevo giocato a roma quel periodo li e poi era uscito su palermo invece ora ho giocato altre cose e niente ieri è uscito a roma comunque anche un altro mio programma monster dog è uscito comunque dove essere usciti tre numeri su sei adesso la ridigitiamo cinquanta venti cinquanta venti per l'uso di città la precedente estrazione per quell'ultima 64 e 65 allora che qui potete vedere due nove undici presi non è uscito nel venti nel trentanove nel 21 11 2 9 85 72 buon risultato anche qui da un altro mio programma monster dog vi lascio tutti i link dei programmi sotto e sono veramente contento beato chi l'ha giocato vi faccia sapere mi raccomando cliccate sul like se volete e iscrivetevi sempre di più mi fa piacere per adesso è tutto ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio ciao a tutti grazie a tutti ciao